Buone nuove per la sicurezza delle scuole orlandine. È stato infatti notificato al comune di Capodorlando il primo dei sei decreti di finanziamento per l'adeguamento sismico delle scuole. La prima ad essere messa in sicurezza sarà la scuola Media Mancari di Via Piave con lavori finanziati per 1.669.000 euro. Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale rientra nella programmazione in materia edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Lo stesso Ufficio Tecnico Comunale dovrà predisporre entro 180 giorni gli atti propedeutici all'avvio dei lavori. Nella graduatoria pubblicata dall'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale figurano anche i progetti di fattibilità tecnico-economica per l'adeguamento sismico della scuola elementare di Via Roma che si avvale di un finanziamento di 1.050.000 euro, della scuola di Contrada Forno, un porto dei lavori 1.900.000 euro, del plesso scolastico di Contrada Vina 1.334.000 euro, della scuola di Piscittina 865.000 euro e della scuola di Contrada Furriolo per un importo di 550.000 euro. L'obiettivo dichiarato di questa attività mirata di programmazione, commenta il sindaco Franco Ingrillì, è quello di avere scuole più sicure e questo è un obiettivo prioritario per la nostra amministrazione, una risposta concreta per gli alunni e le loro famiglie, oltre a tutti gli insegnanti e al personale scolastico. Grazie a tutti.